cari amiche e amici un saluto dalle belle di san berillo sono qua per per farvi gli auguri del nuovo anno per propiziarvi un anno di felicità di armonia e di successi vi auguro un buon 2014 io come voi vi ricordate sono faccio parte delle belle di san berillo e faccio la cartomante come voi vi ricordate vi sto dicendo avrebbe vi voglio prevedere in un 2014 sereno affrontando tutti i dodici segni i primi tre segni di fuoco ariete leone sagittario che già dalla dall'estate 2014 avranno un giove benefico che porterà grande salute grande fortuna e tanti bei soldini iniziamo con gli altri tre segni di terra toro vergine capricorno che ancora dovranno purtroppo sopportare l'effetto di saturno opposto dallo scorpione e che poi si metterà anche giovi in quadratura sarà un anno altelenante dopodiché altri tre segni segni di aria gemelli bilancia e acquario che avranno un anno i gemelli e bilancia dall'estate dopo che uscirà martin opposizione con la con giove che sarà benefico a loro questi due segni bilancia e gemelli avranno un ottimo 2014 fino a dicembre un buon qui al 2015 mentre l'acquario sarà preso di mira sotto il torchio e non avrà un buon anno dopodiché altri tre segni praticamente segni d'acqua che saranno pesci cancro e scorpione questi tre segni d'acqua esattamente dallo scorpione ci sarà ancora saturno che darà delle prove allo scorpione mentre al cancro con marte opposto dalla bilancia darà cattiva salute depressione e ma dopodiché marte che da luglio se ne andrà il cancro dovrebbe avere un pochettino molto più di fortuna e di razionalità di ripresa in poche parole il cancro il pesci invece avrà un anno neutrale un anno bello un anno di soldi un po meno con l'amore e sì anche la salute bene cari amiche e amici sempre dalle belle di san berillo io marcella la cartomante vostra astrologa vi abbraccio e vi braccio vi auguro un buon 2014 al presto arrivederci ma